Per iniziare, definire la lunghezza desiderata del tubo. Nel definire la lunghezza del tubo, tenere in considerazione le misure minime previste. Per le indicazioni a riguardo, fare riferimento alle istruzioni di montaggio e alle istruzioni per l'uso degli apparecchi di premontaggio. Segare il tubo ad angolo retto. Attenzione! Per fare ciò, non usare alcun tagliatubi o flessibile da taglio. Successivamente, il tubo viene leggermente sbavato internamente ed esternamente. È consentita una tolleranza di angolazione di più o meno un grado. Considerare che i tubi tagliati storti o con sbavature riducono la durata e la tenuta del giunto. Per i tubi in acciaio con superfici sottili o per i tubi morbidi in metalli non ferrosi, utilizzare boccole di rinforzo. Pulire ora la tubazione. Le estremità dei tubi non devono essere danneggiate sia internamente che esternamente e devono essere libere da truccioli, sporcizia, ruggine o altre impurità. Per la pulizia dei tubi, usare una soluzione adatta per l'uso previsto.